Questa esperienza per me è stata, devo dire, veramente sorprendente. Ho visto veramente tutto in una sola volta il ciclo intero della gestione dei rifiuti, dalla raccolta differenziata su strada fino alla chiusura a cerchio con l'impiantistica e anche alla gestione della parte economica. Zero waste, per molti di noi che lavoravano in questo mondo, magari dieci anni fa sembrava una follia, una pazzia, e invece devo dire che è stata una visione che ci ha aiutato ad andare in una direzione giusta, quella dei zero rifiuti.